ciao ciao a tutti bentrovati sul mio canale feri a s m r per chi non mi conoscesse io sono Federica grazie per aver scelto questo video ASMR rilassante oggi voglio provare a farti addormentare utilizzando solo la mia voce sussurrata e i suoni prodotti da oggetti grigi ho qui sul mio tavolino ben 8 oggetti grigi e voglio proporteli uno ad uno e farti ascoltare il loro suono alla fine potrai dirmi nei commenti quale di questi suoni ti sarà piaciuto maggiormente ma è importante soprattutto che tu ti distenda in un posto comodo riservando alcuni minuti solo per te e che indossi le cuffie perché il suono di questo video è binaurale e quindi ti arriverò da orecchie a orecchie spero possa piacerti l'idea se è così non dimenticare di farmelo sapere adesso non mi piace e naturalmente se non sei ancora iscritto o iscritto al canale fallo attivando la campanellina per non perdere i prossimi video rilassanti e detto questo direi di iniziare subito partirei da un oggetto il cui contenuto sto indossando proprio in questo video ovvero la boccetta del mio smalto per occhi che come potrete vedere sono grigi ecco questa piccola boccetta in vetro adolio ovvero i Перечerci con la boccetta in vetro e in voi ovvero i cani ovvero i lo sferenti ma o o a me trovo quelli di sals, e suonitei top siamo davvero molto, molto triggerosi tu che ne pensi? riusci a sentire un solletico alle orecchie? tra l'altro voglio assolutamente ringraziarvi perché l'idea di questo video è stata data da una persona di voi grazie ogni volta per suggerirmi nei commenti il video che vorreste vedere se vi va di comunicare in maniera ancora più diretta con me potete farlo utilizzando instagram mi chiamo feri asmr anche lì beh ma passiamo al secondo degli 8 oggetti grigi che ho scelto oggi per te il secondo è un altro oggetto che si trova proprio su di me ed è il mio rossetto un rossetto grigio in realtà è una tinta perlabile un rossetto liquido quindi fa davvero un bel suono eccolo eccolo ascoltate ecco eccolo ecco vi metto un altro po' sull'oltre rimanendo in tema di mouth sounds voglio presentarvi il terzo oggetto grigio che ho scelto per questo video di rilassamento ed è un diffusore di aromi monk in particolare questo è sleepies assonnate se non sapete di cosa si tratta vi rimando ad altri video dedicati comunque non è una sigaretta elettronica ma appunto un diffusore di oli essenziali rilassante la miscela di oli all'interno di questa monk è composta da lavanda, cannella e gava vado a provarlo per la prima volta con voi vi faccio ascoltare il suono all'interno di questo video all'interno di questo video in realtà andrebbe ispirato con la bocca ed ispirato con il naso questo che è contenuto nel diffusore trovasi anche un bel visual trigger questo adorso che si accende bellissimo io adoro questo andiamo avanti siamo al quarto oggetto per il quarto oggetto dobbiamo ringraziare Giulia che me lo ha regalato scegliandolo direttamente dalla mia lista Amazon e a proposito se avete voglia di fare un regalo al canale trovate giù nell'info box la lista delle cose utili e degli oggetti triggerosi che vorrei utilizzare potete anche suggerirvene qualcuno da inserire nella lista se avete voglia di vedere un mio video con quel oggetto in particolare comunque ecco l'oggetto che mi ha regalato Giulia si tratta di uno squishy molto particolare con la forma di questa testolina che fa uno strano patto e produce un suono molto stichy 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 stich è molto morbido questo squishy un perfetto anti stress fammi sapere se ti piace perchè nel caso vorrei riproporlo e riportarlo in qualche altro video qui sul canale ok 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 passiamo adesso al quinto oggetto che come credo tu abbia potuto vedere dall'anteprima è un passino ok 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 quando ho scoperto il suono di questo passino mi sono proprio meravigliata io spero che possano essere rilassanti per te questi suoni accompagnati dai miei sussurri con il microfono binaurale e soprattutto spero che video come questi ti aiutino a scoprire nuovi tricchi per me questo è stato davvero molto potente bene passiamo al nostro sesto trigger che è questa spugna no non è una spugna è un peluche diretto e ho intenzione di metterlo sopra uno uno degli orecchi del predio per farvi ascoltare il suono delle carenze guardate guardate il massato bene benissimo adesso il penultimo oggetto è questo bellissimo sveglia a forma di gatto adesso andrò di inserire la batteria per farti ascoltare il suono rilassante delle lancette e in avanti e spero che ti piatti in ultimo il ritorno di un oggetto che vi ho già presentato e che mi è stato regalato da Angelo che ringrazio sempre scelto dalla mia lista dei desideri di Amazon ed è questa bellissima bottiglia super trick che assaggia solo un tatto grazie 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 bene spero tanto che tutti questi suoni ti abbiano rilassato e spero che il video ti sia piaciuto fammelo sapere mi raccomando noi ci vediamo come al solito se ti va nel prossimo video ti auguro la buonanotte e ti mando tanti tanti bacini va dozzer buonanotte